Cari lettori, cari amici di TuttoLibri, buongiorno. Abbiamo qui con noi l'ospite di oggi il filosofo Diego Fusaro, autore di un libricino appena pubblicato da Einaudi che si intitola Pensare altrimenti, che affronta il problema del pensiero diverso nella grande omologazione del villaggio globale contemporaneo. Buongiorno Fusaro. Buongiorno. Che cosa significa dunque Pensare altrimenti? Pensare altrimenti dovrebbe costituire a mio giudizio una pratica condivisa per reagire a quella omologazione delle coscienze che si sta oggi realizzando sotto il cielo nel villaggio globalizzato. Il paradosso del nostro tempo, almeno uno dei suoi paradossi, sta nel fatto che per un verso si promuove, almeno a livello teorico, il pluralismo, la molteplicità dei punti di vista e delle prospettive. E per un altro verso la pluralità in atto sempre ribadisce il medesimo messaggio. Il pluralismo è fittizio nella misura in cui i plurali tutti dicono la stessa cosa. Vi è un unico modo di pensare, di volere, di esistere. Si sta producendo una uniformazione planetaria coessenziale alla logica del mercato planetario post 1989. Il mondo della mondializzazione è il mondo che impone un unico modello di pensiero, di esistenza e di produzione a tutti i popoli del pianeta e a tutte le individualità che lo abitano. Ecco, lei usa il termine imporre e ha anche citato l'89, cioè la fine della guerra freddo, perlomeno del braccio di ferro tra il liberismo e il socialismo reale. Il socialismo reale ci ha messo dei decenni per imporre il proprio modo di pensare e per costruire il consenso anche con la repressione e con la violenza, ma non ci è riuscito e ha perso il suo dello. Il liberismo invece, il mercato, sembra riuscirci ma come se le persone, le persone, le masse aderissero spontaneamente. Senz'altro è così. Direi che nell'essenziale il capitalismo riesce a trionfare dopo il 1989 sul piano ideologico proprio perché in fondo non ci chiede altro che di essere la parte peggiore di noi. Desiderio individuale, egoismo, cinismo, disinteresse rispetto alle alterità, egoistica ricerca del proprio utile personale. Insomma, il capitalismo sviluppa con successo ciò che di peggio l'uomo può essere ed è per questo che riscontra tanto successo nelle esistenze individuali, di tanta adesione entusiastica in fondo anche da parte di coloro che a conti fatti tutto l'interesse avrebbero a rovesciare. Un modo della produzione che continua, a maggior ragione dopo l'89, a essere fondato sulla miseria dei più, su una asimmetria ogni giorno più indecente, su uno sfruttamento che non dice il suo nome ma che si mostra nei suoi effetti. E poi vi è un altro aspetto interessante, credo che determina questo successo ideologico del capitalismo, questa sua capacità di globalizzare le coscienze e di imporsi come unico regime storico possibile, neutralizzando il senso dell'alterità. E questo aspetto sta nel fatto che il capitalismo riesce, per così dire, a non aver più necessità di reprimere i dissensi. Il socialismo reale a cui lei faceva riferimento e si potrebbero anche affiancare le esperienze dei nazifascismi novecenteschi, ha sempre dovuto reprimere il dissenso. Quelle dei totalitarismi novecenteschi erano in realtà pericolose e sempre in pericolo, perché lasciavano crescere forme di dissenso che poi dovevano essere represse in maniera violenta, dal Gulag ad Auschwitz. La società di mercato contemporanea, che io nel libro qualifico anche come monoteismo del mercato, non ha più bisogno di reprimere i dissensi perché opera di modo che essi non possano costituirsi. Lascia liberi i corpi perché colonizza le anime. Fa in modo che tutti, individualmente e complessivamente, pensino e desiderino ciò che il sistema della produzione necessita che essi pensino e desiderino. Quindi l'opposizione, il dissenso per organizzarsi politicamente e per incidere quindi in qualche modo sullo stato di fatto e cambiare, perché noi il mondo in fondo vogliamo anche cambiarlo, vorremmo perlomeno cambiarlo. Ecco, come può organizzarsi politicamente per incidere davvero in maniera efficace? Una delle tesi portanti del libro è che il dissenso è una forma pre-politica e che al tempo stesso è condizione di possibilità per le forme politiche dell'opposizione ragionata o dell'indocilità riflessa. Vorrei dire che l'Occidente ha sempre praticato le forme della contestazione, dalla ribellione alla rivoluzione, dall'ammutinamento allo sciopero, a partire dal dissenso come matrice individuale di chi si oppone, di chi dice di no. Ecco, il compito difficilissimo per il nuovo scorcio di millennio sta nel fatto che occorrerà dare una unità, riannodare fra loro i molteplici dissensi, le molteplici voci del villaggio globale che sanno oggi dire di no, ma che mancano di un loro orizzonte unitario, di una loro coine, vorrei chiamarla. Ecco, il marxismo è stato, da questo punto di vista, al netto anche dei suoi fallimenti, una grande coine della protesta e dell'indocilità ragionata. Il compito fondamentale per il pensiero che non si è arreso alle logiche dell'esistente, che voglia trasformare il dissenso in una dissidenza operativa, sta, a mio giudizio, nella capacità di riarticolare una coine del conflitto, una voce unificata della conflittualità oppositiva rispetto all'ordine sempre più ingiusto della mondializzazione. Io nel libro assumo come stella polare di questo progetto una considerazione delle tesi di Lione di Gramsci, in cui Gramsci diceva che il compito era quello di coordinare, unificare tutte le voci che per una via o per l'altra fossero giunte alla rivolta contro il capitalismo. Questo è il nostro compito. Lei cita Gramsci, è un grande interprete di Gramsci, si è anche definito marxiano, ma certe volte Salvini la applaude. Da che parte sta? Ma dunque, il fatto che Salvini mi applauda può essere un argomento da utilizzare nel senso in cui Socrate diceva quando veniva adulato dai sofisti, che cosa avrò detto di sbagliato. No, al di là degli scherzi, viviamo in un tempo di grande confusione, per cui è chiaro che singoli movimenti e partiti facciano loro alcuni punti della protesta e del dissenso, ma preciso subito che la mia voce non è integrata e organica a nessuno di essi e quindi io potrei dire di Salvini lo stesso che Catullo diceva di Cesare, non mi curo se sia bianco o se sia nero, ma lo stesso di tutti gli altri politici. È però sintomatico del fatto che oggi singoli partiti comprendano e afferrino certi punti della protesta, senza però mai riuscire a costituirsi come partiti autentici della protesta. Il 5 Stelle, la sinistra italiana, la Lega Nord, i Fratelli d'Italia, tutta la molteplicità dei partiti su singoli punti possono anche costituirsi come voci del dissenso, ma è l'espressività generale del loro movimento politico che a mio giudizio fa sì che essi non siano partiti del vero dissenso ed è per questo che il mio libro, questo manuale del ribelle 2.0, non è assolutamente un libro rivolto ai politici e ai partiti già costituiti e semmai l'auspicio, il bagliore di una possibilità di un nuovo movimento culturale e politico che ponga in essere la voce del dissenso. Sottolineo il tema culturale, dalla cultura occorre ripartire, non vi è teoria rivoluzionaria se non c'è, non vi è un movimento rivoluzionario se non vi è una teoria rivoluzionaria, ecco questa è la grande tesi di Lienin, occorre una teoria culturale anzitutto della dissidenza che metta a nudo le contraddizioni che innervano la realtà, senza la quale teoria non può nemmeno esservi un movimento. Nella fenomenologia dei dissenzienti e del dissenso le cita anche Bartleby, lo scrivano, Melville, potrebbe essere un punto per ripartire, preferirei di no, potrebbe essere un punto per ripartire la nostra coscienza del dissenso? Certamente, il dissenso per sua natura fa valere un movimento anzitutto negativo, è un dire di no il dissenso, ancorché possa mancare in origine di una coscienza chiara, di una preconfigurazione di che cosa debba essere, il dissenso nasce quando l'individuo, anzitutto l'individuo avverte un'alterità fra ciò che è e ciò che potrebbe e dovrebbe essere, quindi fa valere essenzialmente un movimento negativo, io ho scelto come esergo della mia opera i versi di Montale, codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Ecco, Bartleby è personaggio del dissenso per eccellenza, è la figura storica concreta della letteratura che ha, per così dire, incarnato la voce del dissenso, nella sua formula I would prefer not to, è condensata in maniera calibrata una giusta e sobria forma di, diciamo così, di educato contegno al rifiuto radicale, al rifiuto nettissimo, quasi immediato che si associa alla rotazione del capo di chi dice di no. Ecco, Bartleby è l'eroe del dissenso in questo senso, di un dissenso ostinato che non si piega, che non demorde e dal quale è auspicabile che sorgano poi in forme politiche figure della contestazione tese a produrre ulteriorità nobilitanti rispetto alla felicità disponibile ampiamente reificata. Bene, la ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie a voi tutti.